Il Frecciarossa 9608 in partenza alle 5.15 da Salerno per Roma sarà regolarmente disponibile sui canali di vendita per le date successive al 31 gennaio con il prossimo aggiornamento dei sistemi online previsto per l'ultima settimana del mese. Risolta nel giro di poco tempo l'ennesima paventata soppressione del treno mattutino che da Salerno conduce alla capitale. Ad annunciarlo tra in Italia dopo che la Filt CGL di Salerno in una nota stampa firmata dal segretario generale Gerardo Arpino inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Economie e delle Finanze, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale al Presidente della Regione Campania, al Presidente della Commissione Trasporti al Gruppo Ferrovie dello Stato e al Sindaco del Comune di Salerno aveva anche paventato un presidio di protesta proprio alla stazione di Salerno per lunedì prossimo. Sì, nella giornata di ieri giungevano notizie negative sulla soppressione del treno 96-08 il Frecciarossa che collega Salerno a Roma Termini. Non si poteva più acquistare un biglietto già dal primo di febbraio. Con gran senso di responsabilità per la terza volta consecutiva ci siamo messi all'opera così come è avvenuto anche il 16 di novembre e abbiamo preso carte e penne e abbiamo scritto direttamente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al Ministero dello Sviluppo del Mezzogiorno, oltre che alla Regione Campania chiedendo un intervento rapido e celere al fine di ripristinare nuovamente questo treno quale primo mezzo di collegamento tra Salerno e Roma Termini per tanti e tanti pendolari che tutti i giorni si spostano nella capitale per andare al lavoro. Riteniamo importante la ripresa di questo treno. Nel tardo pomeriggio, dopo anche una nostra minaccia, definirla minaccia, ma una promessa di fare un sit-in di protesta già il 25 di gennaio, qualora non fossero arrivati notizie celere rispetto ad una ripresa del servizio, già nel tardo pomeriggio Trenitalia ci ha ufficializzato la ripresa del servizio dal primo di febbraio. Quindi tutto torna alla normalità, ma secondo lei perché ogni tanto Trenitalia prende queste decisioni? Tutto torna alla normalità, naturalmente noi saremo vigili perché pensiamo che a causa di questa pandemia e soprattutto quindi a causa di poco affollamento sui treni, si tenta di diminuire il numero di collegamenti tra le città. Però bisogna sottolineare che questo freccia è stato già limitato, perché prima arrivava a Milano Centrale, ora termina a Roma Termini, è stato limitato per questa tratta proprio per il numero di persone che lo utilizzano per recarsi al lavoro. Quindi questo non è un treno di semplici viaggiatori che si spostano da un luogo all'altro per viaggio, per turismo, ma è un treno che viene usato quasi come un treno melopolitano per i collegamenti di tanti e tanti utenti che vanno al lavoro. Sembra quasi un paradosso se attiva l'alta velocità Battipaglia e poi si decide di sopprimere un ulteriore tratta qui dalla stazione centrale di Salerno. Sì, può sembrare un paradosso. Per noi l'alta velocità Battipaglia è stato un qualcosa di importantissimo, soprattutto per lo sviluppo del territorio, per i collegamenti con il sud, così da diminuire fortemente i tempi di attesa. Però è normale che dall'altra parte poi tagliare un treno in questo momento è paradossale. Noi come sempre abbiamo fatto e faremo la nostra parte in tutela non solo degli utenti, ma anche dei lavoratori.